Come abbiamo visto sia nella parte sul diritto d'autore sia nella parte sui marchi, possiamo ragionare al negativo, cioè dopo aver detto cosa si può registrare come brevetto, in cosa consiste la tutela del brevetto, quali sono i requisiti per ottenere un brevetto, adesso facciamo la domanda al negativo. Che cosa non può essere oggetto di brevetto? E questa domanda trova risposta nell'articolo 45 del codice della proprietà industriale, che è una norma che avete già conosciuto, è un decreto legislativo del 2005 e trovate tutte le norme sul mondo dei brevetti, del segreto industriale, dei marchi e del design. Dice questa norma che non possono essere oggetto di brevetto le scoperte, cioè sono tre sostanzialmente le parti di questa norma, quindi la prima dice che non possono essere oggetto di brevetto, Le scoperte, l'abbiamo già spiegato perché, perché se è scoperta non può essere invenzione, anche per una questione logica, no? Le teorie scientifiche, i metodi matematici, i piani, i principi e i metodi per l'attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali, i programmi per l'elaboratore, le presentazioni di informazioni. Allora, sui programmi per l'elaboratore ci sarebbe da aprire un vaso di Pandora non da poco perché non possiamo fare una lezione sui brevetti software perché ne porterebbe via due ore. Vi rimando magari a un'intervista che ho fatto non tanti giorni fa, cioè il mese scorso, con il collega Carlo Piana, in cui abbiamo parlato un po' dei brevetti software, sto scrivendo anche io una cosa, una mia nuova pubblicazione che parlerà anche di questo, però, allora, in Europa noi abbiamo una, c'è stata una votazione nel lontano ormai 2006, in cui il Parlamento europeo, di fronte all'opportunità o meno ad una proposta di direttiva sulla brevetti azione software, ha dato un no secco, cioè con una maggioranza molto molto ampia. Quindi in Europa non si possono fare brevetti software in sé, cioè non posso brevettare il codice o l'algoritmo in sé, però poi sono riusciti a far entrare dalla finestra qualcosa che era uscito dalla porta, come si usa a dire, cioè comunque l'ufficio brevetti europeo fa quello che fa anche l'ufficio brevetti statunitense, sostanzialmente concede comunque dei brevetti su cose che vengono chiamate computer implemented inventions, cioè invenzioni implementate attraverso il computer, quindi loro dicono sostanzialmente i titolari di queste invenzioni, ma no, ma noi non stiamo davvero brevettando del software, noi stiamo brevettando un'invenzione, una cosa molto più complessa, in cui però una parte sostanziale è software. Capite il gioco? Per cui alla fine loro cercano di comunque garantire quei 4-5 requisiti che abbiamo visto e ottenere un brevetto, che non è su software puro, è su qualcosa che poi alla fine più o meno riconduce a software, ma non è software in sé. Questo è un po' molto molto riassunto e molto semplificata la questione. Però ecco, un altro tema è i metodi matematici o i metodi per attività intellettuale o commerciale, cioè ogni tanto succede, uno mi aveva contattato, un cliente, per un metodo, era un metodo di, diciamo, di business, cosiddetti modelli di business. Il modello di business in sé non può essere oggetto di invenzione, perché non è un'invenzione, appunto è un metodo, che è una cosa diversa che inventare. Ogni tanto mi chiedono un metodo didattico, poter tutelare un metodo didattico. Il metodo didattico in sé non è tutelato, quantomeno non da brevetto, può essere tutelato come una sorta di brand, cioè il metodo, che ne so, le scuole d'inglese che hanno un loro metodo particolare, utilizzano una piattaforma in un certo modo. Allora, puoi sfruttare, diciamo, in qualche modo indirettamente le norme sul brand, sulla concorrenza sleale, del famoso articolo 2598, ma non certo puoi fare un brevetto, un'invenzione industriale. Rimangono fuori, vedete, così risponde anche la domanda della vostra collega prima, non sono oggetto di brevetto i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Quindi i farmaci sono brevettabili, ma non i metodi per il trattamento. Quindi pensate a un chirurgo molto, un chirurgo che trova un, che ne so, un chirurgo che trova un nuovo metodo per operare, per operare l'amiopia, per fare quella che adesso ci sono per fare l'operazione al laser, all'amiopia, ci sono due tecniche, la LASIC e la PRK, lo so perché l'ho fatta, e quindi mi sono dovuto studiare un po' la cosa, e quindi ho imparato che ci sono questi due metodi. Ipotizziamo che arrivi un chirurgo che scopre che il laser può essere usato in un certo modo e quindi riuscire a fare la cosa in modo ancora meno impattante per l'occhio, ancora meno doloroso e ancora più economico. Lui non può brevettare questo suo nuovo modo di operare gli occhi. L'unica cosa che lui può fare per tenere sotto chiave, evitare che altri la facciano, altri copino il suo metodo, è quello che potete immaginare, cioè non far vedere, cioè farlo solo lui e non far vedere a nessuno come lo fa. Ecco che torniamo al segreto, capite? In alcuni casi l'unico modo che hai per vincolare un ritrovato, un metodo in questo caso, è quello di non renderlo pubblico. Ma visto che è impossibile in alcuni casi non renderlo pubblico, e questo è un caso perché nessun chirurgo opera da solo in uno scantinato, no? Devi operare in una clinica, devi garantire certi standard, devi informare il paziente, la legge prevede che tu informi su quale sarà il tipo di trattamento, solitamente ti fai assistere almeno da un infermiere o anche addirittura da un altro chirurgo, o da due, tre chirurghi che operano con te, quindi è impossibile tecnicamente poi fare sta cosa, cioè tenere segreto un metodo chirurgico. Però nel caso in cui si trovasse, comunque non potrebbe essere oggetto di brevetto. E infine, eccolo qua, non può essere oggetto di brevetto una nuova razza animale, una nuova specie animale che non sia vegetale, quindi procedimenti essenzialmente biologici e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse. Questo qua, adesso entriamo nella spiegazione del cosiddetto, vabbè, dei modelli di utilità, però interrompo la registrazione.